il treno nigatiet 237 di obb proveniente da vienna è diretto a venezia santa lucia delle ore 7 25 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a treviso centrale venezia mestre il treno alta velocità freccia rossa 97 13 di treni italia proveniente da udine è diretto a milano centrale delle ore 7 e 06 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a treviso centrale venezia mestre padova vicenza per una porta nuova del senzano del garda sirvione brescia carrozze dalla 1 alla 3 in coda treno dalla 4 alla 5 centro treno dalla 6 alla 8 testa treno il treno regionale veloce 38 65 di treni italia proveniente da udine è diretto a venezia santa lucia delle ore 6 e 59 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a treviso centrale mogliano veneto venezia mestre il treno regionale veloce 16 04 8 di treni italia proveniente da venezia santa lucia è diretto a direttamente le ore 6 e 52 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a sacile portenone casarsa coperopo attenzione invitiamo a non soltare tutti i percorsi tattili dedicati al passaggio delle persone con disabilità visiva il treno regionale veloce 38 84 di treni italia proveniente da venezia santa lucia è diretto a versi centrale delle ore 14 e 52 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a sacile portenone casarsa coperopo udine cornoz corizia centrale sacrado montalcone il treno regionale 16 2 1 8 di treni italia delle ore 14 e 41 per belluno è in partenza dal binario 1 ferma in tutte le stazioni eccetto santa croce del lago il treno regionale 16 7 9 3 di treni italia proveniente da udine è diretto a venezia santa lucia alle ore 14 e 41 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a spresiano tre viso centrale preganziol mogliano veneto venezia mestre il treno regionale 36 56 di treni italia delle ore 14 e 30 proveniente da venezia santa lucia è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 16 7 9 0 di treni italia proveniente da venezia santa lucia è diretto a udine delle ore 14 e 19 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla eccetto il treno regionale 16 3 3 4 di treni italia proveniente dal treno regionale 13 3 3 4 di treni italia proveniente dallaOUR1 conveniente da 10 avevo al binario attenzione allontanarsi dalla linea gialla Il treno regionale 17334 di Trenitalia, proveniente da Triaschi Centrale, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 14.03, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma A, Treviso Centrale, Mogliano Vento, Venezia Mestre. Il treno regionale di luce 3638 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Udine, delle ore 13.52, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma A, Sacile, Bordenone, Casazza, Cobroivo. Il treno regionale 16787 di Trenitalia, proveniente da Udine, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 13.41, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma In tutte le sezioni. Il treno regionale 3652 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Sacile, delle ore 13.31, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedi. Il treno regionale 16248 di Trenitalia, delle ore 13.18, proveniente da Belluno, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 16809 di Trenitalia, proveniente da Udine, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 16.41, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma In tutte le sezioni. Il treno regionale 16222 di Trenitalia, delle ore 16.41, per Belluno, è in partenza dal binario 1. Firna In tutte le sezioni eccetto Santa Croce dell'Apo. Attenzione! Treno in arrivo al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 3662 di Trenitalia, delle ore 16.30, proveniente da Venezia Santa Lucia, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 16800 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Udine, delle ore 16.19, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Per lei in tutte le sezioni. Il treno regionale 16254 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma In tutte le sezioni. Il treno regionale 17338 di Trenitalia, proveniente da Tresti Centrale, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 16.07, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma A. Treviso Centrale, Mugliano Bredito, Venezia Nestre. Attenzione! Treno in transito al binario 1. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 163614 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 15.52, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma A. Sacifo, Ordenone, Casarza, Controlico, Udine, Cornoz, Burizia Centrale, Sagrado, Montalcone. Il treno regionale 16801 di Trenitalia, proveniente da Udine, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 15.41, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 16880 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Venezia, delle ore 15.40, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce 36.57, il treno Italia, delle ore 15.31, per Venezia Santa Lucia, è in parvenza dal binario 3. Il treno regionale, conferma a Suresiano, premiso centrale, pregazione, moliano vento, Venezia Mestre. Attenzione! Treni passi ordinari 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, proveniente da Venezia Santa Lucia, è in arrivo al binario 1.00, è in arrivo al binario. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste informate ai fratelli. Il treno regionale, 16.8.6.2, di Trenitalia, proveniente da Venezia, è in arrivo al binario 2.00, è in arrivo al binario 2.00. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Accetto. Suseghiana, Suresiano, la Cernico. Grazie! Il treno regionale più luce, 38.86, di Trenitalia, proveniente da Tresi Centrale, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 15.07, è in arrivo al binario 2.00. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Trediso Centrale, moliano vento, Venezia Mestre. Attenzione! Vietato attraversare i binari, sentirsi nel sottopassaggio, si ripetano e vietato a aprire le porte esterne dei treni e salire a scendere quando non sono completamente vedi. Il treno regionale di roce, 36.04, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Udine, delle ore 8.52, è in arrivo al binario 1.00. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Sacile, Bordenone, Casarsa, con l'olto. Il treno regionale 16.7.2.6, di Trenitalia, proveniente da Tresi Centrale, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 8.41, è in arrivo al binario 2.00. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno intercity notte, 8.82, di Trenitalia, proveniente da Tresi Centrale, è diretto a Roma termini, delle ore 21.32, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Treviso Centrale, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Padova, Terme Ugane Abano Montegrotto, Monselice, Rovigo, Ferrara, Bologna Centrale, Arezzo, Teronto La Cortona, chiusi Chianciano Terme. Carrozze dalla 1 alla 2, in testa treno, dalla 3 alla 4 centro treno, dalla 5 alla 6 coda treno. Su questo treno è disponibile il servizio cucette. Su questo treno è disponibile il servizio letto. Il treno intercity notte, 8.82, di Trenitalia, delle ore 21.30, proveniente da Tresi Centrale, è diretto a Roma termini, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Carrozze dalla 1 alla 2, in testa treno, dalla 3 alla 4 centro treno, dalla 5 alla 6 coda treno. Su questo treno è disponibile il servizio cucette. Su questo treno è disponibile il servizio letto. L'autobus sostitutivo di 7.2, 2, di Trenitalia, delle ore 22.01, per me il 1, è previsto in partenza, piazzale esterno di stazione. Ferma A, soffrata, Vittorio Vento, stazione per l'Altago, ponte nelle albi coltette. Il treno intercity notte, 35.69, 6, di Trenitalia, proveniente da Tresi Centrale, è diretto a Roma termini, delle ore 21.17, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma A, Treviso Centrale, Venezia Santa Lucia, Venezia Nestre, Padova, Terne Ugane, Adano Monte Grotto, Monserice, Rodigo, Ferrara, Bologna Centrale, Arezzo, Teontola Cortona, chiusi chianciano terme. Carrozze dalla 1 alla 2, in testa treno, dalla 3 alla 4, centro treno, dalla 5 alla 6, cuda treno. Su questo treno ha disponibile il servizio cucente. Su questo treno ha disponibile il servizio letto. Il treno di tallo alta velocità, 89.20, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Udine, delle ore 21.27, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma A, Pordenone. Carrozze dalla 11 alla 8, in testa treno, dalla 7 alla 5, centro treno, dalla 4 alla 1, cuda treno.